Un disastro, hanno fatto i vostri nipotini, come la pubblicità della carta, dei rotoli di carta, adesso bisogna pulire tutto, qua c'è laminini, che oggi torna a casa sua, aveva il vermettio, aveva le pulcine, adesso è una signorina rinnovata, qua c'è Gretel, a cui devo cambiare il gabbione, vero amore, che sei bella calma oggi, qua c'è Ale, qua c'è cookie, adesso bisogna misurare la temperatura, guardare un po' cosa fare con l'antibiotico, ha già fatto un po' di pape, qua Carlo gioca con Orfeo, belli, ciao zi, ti mettiamo un l'opera, che qua c'è un disastro e fuori bisogna fare un sacco di cose, cosa state guardando tutti dietro la stufa, guardate quanto hanno tutti, mamma mia questo, questo giochino è bellissimo, Carlo c'è anche un altro metodo per comunicare, il dialogo non solo la prepotenza, grazie. Grazie. Grazie.